Salve a tutti senza luce e benvenuti in un nuovo video qui su Top Games. Io sono Samuel ed oggi parleremo di un'altra arma difficilissima da ottenere, ma questa volta davvero difficile, cioè sotto il precedente video dell'arma più difficile da ottenere in cui parlavamo dell'igni spada di fuoco c'è stato un botto di commenti, un botto di commenti positivi, un botto di commenti negativi, c'è stato un botto di commenti, abbiamo parlato, abbiamo chiacchierato, abbiamo riso, come al solito e come piace fare a me. E ad una certa Andrea, non il mio Andrea, un Andrea ventilatore in giapponese, se ne è uscito con... ma lo sai che in realtà l'igni spada non è la più difficile da ottenere? C'è un pugnale ancora più difficile. Aspettate, vi recupero proprio il commento, datemi un attimo. Mi spiace contraddirti, ma l'arma peggiore è il pugnale delle ballerine, ha un drop rate di 0.5%, ma soprattutto le uniche tre ballerine che lo droppano lasciano anche altre cose, quindi diminuisce ancora di più la probabilità di averla. Poi ovvio, a volte con un botto di fortuna si può avere qualunque arma anche al primo colpo, ma se ci basiamo in calcoli prettamente matematici, il pugnale è il più raro. E questa è la parte sul pugnale, ragazzi. Ha ragionissima! Io questo falcetto non l'ho mai trovato, ovviamente, poi ho il personaggio con tutti gli equipaggiamenti per fare le build, ma non l'ho mai trovato. Quindi sono andato a farmarlo. Ma prima di parlare di tutto quello che riguarda questo video, andiamo a ritagliare il solito momento di tempo per ringraziare tutti quegli utenti che hanno deciso di supportare il canale, sfruttando abbonamenti e super grazie. Siete tantissimi e ci state aiutando a migliorare il canale. Per farvi un esempio pratico, un paio di mesi fa all'uscita abbiamo preso Taimija, e adesso, non so se ci avete fatto caso, ma i miei video sono qualitativamente migliori, hanno una grafica migliore, ed è tutto grazie a voi. Tutto grazie a quelli che per voi magari sono spiccioli che ci donate, io adesso registro con una qualità maggiore. E vi ringrazio! Già che ci siamo, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like ed un commento qui sotto, ed attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri nuovi video. E se avete anche voi il piacere di supportare il canale, qui sotto in descrizione trovate tutti i link, come gli abbonamenti di Supergrazie, ed anche il nostro gruppo Telegram, dedicato agli sconti per gamers poveri, in cui troverete un sacco di prodotti a prezzi scontati. Il pugnale incriminato è il falcetto del Celebrant. Si tratta di un falcetto decorato con fiori e stoffe multicolori. È un oggetto cerimoniale usato dai danzatori di Dominula, villaggio dei mulini, durante le festività. I suoi attacchi possono eludere la guardia del nemico, ricavato da osso umane. Garantisce una ridotta quantità di rune, mettendo a segno un attacco. Vi dirò la verità! Cioè se io vado a vederlo, c'è un danno di 188 più 163, forza A6 destrezza 11, forza E destrezza B. Fa cagare, non vedo perché lo vorrei avere. Per collezionismo, ovvio, perché la risposta alla fine è per collezionismo. Tutti noi vogliamo queste cose per collezionismo. E quindi andiamo a prenderle. E ci rompiamo le palle a prenderle. E lo faremo anche in questo video. Adesso, io sono andato nel villaggio delle persone molto allegre e felici che ballano. Nello specifico, inizialmente, come vedrete dal video, sono salito alla grazia del colle di mulini a vento. Ma è la grazia sbagliata. Io vi lascerò solamente la clip che scora per farci compagnia mentre parliamo, perché siamo in un villaggio in cui il master, dagli ed è tacco, dagli ed è punta, così, balla la sua, rassunta. Scusatemi, dovevo farlo. Ci sono tutte queste danzatrici. Quali danzatrici effettivamente droppano il pugnale che a noi interessa? Perché all'inizio io non mi sono informato. Avevo capito che il pugnale delle danzatrici si riferiva a Dominula, perché è l'unico posto in cui dagli ed è tacco, dagli ed è punta, così, balla la sua, rassunta. Effettivamente quelle che possono droppare il falcetto che a noi interessa sono effettivamente quelle signore che ce l'hanno in mano. Detta così effettivamente suona brutta, non volevo dirla così male. Dove si trovano le signorine che hanno questo falcetto in mano? Non al colla di mulini a vento, anzi ci allontaneremo di brutto, ma dovremmo recarci alla grazia sottostante, ossia il villaggio dei mulini a vento. Qui, salendo di un po', troveremo un gruppo di tre dagli ed è tacco, dagli ed è punta. Sopra ne troveremo un paio, tra cui due suore assunte col mantello blu. Quelle col mantello blu sono quelle che hanno fisicamente il mano e il falcetto, quindi solamente loro possono darci questo armamento. E io ne ho trovato due, nel commento Andrea mi diceva tre, io ne ho viste due. Cioè, quindi già mi manca un pezzo, figuriamoci. Siamo abbastanza vicini alla grazia, certamente, ma qual è il problema? Proprio come diceva il nostro commentatore, effettivamente, queste gentil pulzelle droppano di tutto, meno quello che noi vogliamo. Cosa possiamo fare per andare ad aumentare questa quantità di drop rate? Possiamo sicuramente utilizzare la zampa di gallina d'argento e lo scarabèo d'argento, che vanno ad aumentare la nostra scoperta degli oggetti. Poi, alternativamente, alzare arcano, se avete dell'arcano basso, l'arcano è quello che influenza la scoperta degli oggetti. E potrete farlo anche con degli elmi, come l'elmo della lacrima d'argento. Questo qui andrà ad aumentare l'arcano, quindi in automatico alzate anche la scoperta degli oggetti. Ora, io ci ho passato una trentina di minuti, perché so che effettivamente lo droppano loro, non l'ho droppato. Sarà sfortuna, sarà quello che volete, ma io non l'ho ottenuto. Quindi, non saprei dirvi quanto tempo vi servirebbe per ottenere questo fantastico pugnale inutile. Magari, se mi metto in testa di farmare, anche perché, come avrete visto, io mi sono tenuto la build dell'ultimo video, non sono andato a cambiarmi, non ho ricreato la mia build, quindi non mi trovo nemmeno benissimo. Cioè, con la mia build personale c'è un certo feeling molto diverso da una build che provo per un video. E qui questo feeling non c'è, quindi le ho anche prese dalle danzatrici. E che dire, non ci sono altri molti consigli, sappiamo solamente che queste gentilsignore possono droppare un sacco di equipaggiamenti. Cioè, se io vado in internet e guardo su Eldering Map, vedo che solo in quella zona potremo ottenere, sì, il falcetto, potremo ottenere la mazza, potremo ottenere la re-break, che non so bene cosa sia, ma come potremo ottenere un po' più avanti anche il teschio di celebrante, o, insomma, ci sono un sacco di cose che potremmo ottenere in questa zona. Quindi abbiamo già tre armi, e se io adesso, ma sono sicuro che usando Eldering Map se metto show all, qui potremo ottenere di tutto. Cioè, possiamo ottenere il set festivo blu, il set festivo... Cioè, ci possono droppare l'armatura, le tre armi, le schegge di ossa umane, droppano di tutto... E noi siamo qui, in questa zona, per ottenere un solo pugnale. Ok? Per l'amor del cielo, nel mentre farmiamo, ma... Cavolo! È davvero il pugnale più difficile da trovare di tutti? Fatemi sapere nei commenti voi in quanto tempo l'avete trovato. E io, appena lo trovo, vi aggiorno. Se conoscete altre armi o armature difficilissime da ottenere, fatemelo sapere nei commenti, ci faremo sicuramente dei video. E se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like ed un commento qui sotto, ed attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri nuovi video. E se avete anche voi il piacere di supportare il canale qui sotto in descrizione, trovate...